ciao ragazzi allora video informativo per quanto riguarda la coppa italia primavera fiorentina juventus che si è giocato al bozzi e informativo perché non l'ho potuta vedere primo perché non l'hanno trasmessa secondo perché sto guardando cuneo juventus under 23 e ve lo dico ragazzi anche per gli amanti dell'under 23 arriverà il mio video post partita ma non credo che sia positivo perché in questo momento sono 70 minuti di gioco siamo 2 a 0 per il cuneo quindi insomma non è proprio una buona giornata per i core bianconeri dunque termina l'avventura di coppa italia primavera per appunto primavera bianconera che perde ma perde 4 a 3 secondo me esce comunque a testa alta in un torneo molto difficile con squadre lo ripeto sempre più attrezzate soprattutto più attrezzate dalla parte in giù nel senso dalla parte difensiva gli antipodi perché sto guardando l'under 23 che secondo me invece ha completamente il problema opposto cioè il problema dell'attacco la primavera purtroppo un problema difensivo enorme e non va bene perché comunque andare a fare tre gol a firenze non è facile non è assolutamente facile anzi credo che sia uno dei campi più difficili dove andare a segnare è una squadra che fa tre gol lì credo che faccia capire che le qualità le qualità ce le abbia problema è che purtroppo dietro si è messi male e dunque come detto era solo informativo era passato in vantaggio la juventus con portanova poi la fiorentina si è portata sul 3 a 1 nicolussi caviglia aveva ridotto ancora le distanze con un bel colpo di testa poi il gol della fiorentina del 4 a 2 e poi marcovici a tempo scaduto si è andato il 4 a 3 ma poi l'arbitro fischiato giustamente alla fine visto che il tempo era scaduto ragazzi quindi come detto verrà solo un video informativo finisce l'avventura della primavera in team cup primavera coppa italia primavera e speriamo insomma che la juventus primavera riesca a rialzarsi e riesca in questo mercato a comprare un paio di difensori per poter puntare perlomeno ad andare alla fase finale del campionato primavera perché questa squadra un attacco eccezionale ma se dietro non metti a posto la difesa farai fatica con chiunque chiudo qua il video ragazzi e me non resta di salutarvi dare appuntamento al prossimo video ciao